Prendi una carta. Quella che vuoi. Ok, prendi una carta anche tu. La ripetrisci. Fai vedere in camera la carta scelta liberamente. Fai vedere la carta scelta liberamente e metti la carta. Grazie. Perfetto. Adesso abbiamo anche un sacchetto, ragionato del mazzo, grazie. Un sacchetto di carta vuoto. Non contiene nulla all'infuori dell'aria. Le mescoliamo e le mettiamo nel sacchetto. Adesso mescola il sacchetto. Guarda, facciamo una cosa interessante. Prendiamo il sacchetto. Dai a mescolare anche tu, pelle nere. Mescolare il sacchetto. Le carte si devono mescolare ben bene. Sì, a cercare. Provate, provate. Una carta. Prendi una carta. Le ho spiegato. Wow! Mi scelta una carta qua. Fala vedere. Fala vedere. Metti la carta. Fai vedere in camera la carta scelta liberamente. Mettila. Ciao. Ciao. Ciao.